Marco Raneri, studente del liceo classico di Alcamo, 14 anni, è il nuovo presidente dell'Interact Club di Castellamare del Golfo Segesta, terra degli Elimi. Il passaggio delle consegne avvenuto alla presenza di una delegazione di rotariani e rotaracchiani insegna l'inizio di un percorso interamente dedicato al servizio come strumento indispensabile, ha affermato Marco Raneri per garantire al club giovanile del prestigioso Rotary l'adesione a quei principi che fecero compiere a Paul Harris la scelta che lo portò a creare e supportare questo importante sodalizio. Ad affiancarlo in questo percorso la past president Federica Savallo, il segretario Giuseppe Messina, il tesoriere Benedetta Raneri, di due past president, oramai rotaracchiani, ma socio onorari del club Francesca Fontana e Alessandra Vivona, a cui sono andati altri incarichi. A giorni nel corso di alcuni eventi saranno ammessi i nuovi soci e presentate le due attività principali. Parliamo dell'Aro Rifiuti che è stato varato adesso a Castellammare del Golfo, il Consiglio Comunale ha dato il suo ok trasversalmente e il Comune preannuncia con questa nuova gestione anche importanti risparmi. Istituita l'area di raccolta ottimale che permette di gestire direttamente il servizio di raccolta e trasporto rifiuti a Castellammare del Golfo, stiamo parlando quindi del nuovo sistema Aro che manda in soffitta lato rifiuti attualmente esistente. Un passaggio importante che l'amministrazione aveva il dovere di compiere al fino di ridurre la spesa per il servizio rifiuti, dice il sindaco Nicolo Coppola, un importante obiettivo raggiunto al fine di tentare di realizzare nuove economie che deriveranno proprio dall'istituzione dell'area di raccolta locale. Mi compiaccio soprattutto del fatto che ci sia stato un proficuo confronto consigliare. L'istituzione dell'Aro è stata votata all'unanimità dei presenti al Consiglio Comunale, 17 consiglieri su 20, riunitosi ieri sera in seduta ordinaria. L'istituzione dell'area di raccolto ultimale consente di migliorare i risultati riguardanti, la raccolta e il trasporto dei rifiuti e diminuire quindi anche i costi, continua il sindaco. La costituzione dell'Aro, demarcata dal confine amministrativo del comune Castellammarese, consente di gestire direttamente lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Sono soddisfatto perché la votazione unanime dei consiglieri presenti in aula, di maggioranza e di minoranza, aggiunge ancora il primo cittadino, evidenzia la necessità di lavorare per l'interesse collettivo, prescindendo da logiche di appartenenza, così come è stato fatto in questa circostanza. Questo nuovo sistema gestionale offre l'opportunità di scegliere autonomamente la forma di gestione del servizio ritenuta più vantaggiosa in termini di efficienza, con una spesa sicuramente notevolmente inferiore rispetto all'attuale costo del servizio che sarà rimodulato allo scopo di raggiungere anche gli obiettivi di raccolta differenziata per i quali è condizione necessaria la collaborazione ed il senso civico di tutti noi castellammaresi. E parliamo ancora del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo. Maurizio Paradiso, consigliere comunale castellammaresi di Sicilia Democratica, ha presentato una mozione con cui impegna il Sindaco e la Giunta di Castellammare del Golfo ad introdurre il cosiddetto baratto amministrativo che è previsto dal decreto Sblocca Italia ed è una misura che prevede una forma di contribuzione alternativa per quei cittadini che attraversando un momento di difficoltà economica possono contribuire al pagamento delle tasse con prestazioni lavorative alternative e dirette, tasse ovviamente di competenza comunale. Si tratta di una misura che torna utile a tutti, precisa il consigliere, grazie al baratto amministrativo. Infatti il Comune di Castellammare potrà contare su forza lavoro aggiuntiva dando dignità a chi, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, non vuole far mancare il proprio apporto alla comunità, sistemando ad esempio l'Ere Verdi, effettuando anche la manodopera in piazze e strade oppure procedendo al recupero di aree di beni immobili inutilizzati. E rimanendo sempre sul tema dell'Aro rifiuti, non c'è stato niente da fare invece a Partinico dove è stato rinviato l'Aro al prossimo 29 settembre. Il piano di raccolta dei rifiuti è giunto in assise senza il necessario parere dei divisori dei conti. Tutto rinviato ma intanto è già guerra tra maggioranza e opposizione. Nuovo stop per l'Aro rifiuti a Partinico, il nuovo soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dell'immondizia in città che andrà a soppiantare l'attuale Ato in via di liquidazione. Questa volta però il problema è più che altro di natura tecnica. Mancava il parere del revisore dei conti, motivo per cui non poteva arrivare il via libera dal Consiglio Comunale. Proprio per questo motivo il civico consesso ha deciso di rinviare tutto alla prossima seduta del 29 settembre, quando nel frattempo sarà arrivato il parere dell'organismo di controllo contabile del Comune. Nel frattempo è tornato ad accendersi il dibattito attorno all'Aro, il cui costo gestionale a carico del Comune di Partinico si aggira attorno ai 5,3 milioni di euro l'anno. Troppo per il gruppo consigliare di Cambiamo Partinico, che ieri è tornato a chiedere una gestione interna del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con il servizio in house, conti alla mano, ha sottolineato il consigliere comunale Gianluca Ricupati, il Comune andrebbe a risparmiare per il primo anno già quasi un milione di euro e poi al regime tra il 2017 e il 2018 si scenderebbe a 2,8 milioni. Ipotesi non percorribile, secondo la maggioranza del Consiglio Comunale che sostiene il Sindaco. A mio parere, replica il Presidente del Consiglio, Filippo Aiello, con questa nuova strutturazione del servizio, ben diversa da quando il Comune aveva la gestione diretta del servizio da mai più di dieci anni fa, la strada di internalizzare la raccolta e smaltimento dell'immondizia non è attuabile. Con il servizio a regime, quindi con l'arrivo della raccolta differenziata e il conseguente raggiungimento della quota del 65%, come previsto da capitolato d'appalto, saranno previsti degli importanti risparmi. Certamente ci sarà da sciogliere il nodo degli operai, ad essere previsti 51 operatori ecologici contro i 63 che attualmente sono in servizio collato, i 12 in esubero. Che fine faranno? Non ci sarà alcun licenziamento per Cisaiello, questo personale resterà a disposizione della Costituenda SRR. Tutta da verificare quale sarà l'efficienza di questo nuovo organismo considerata la disastrosa situazione in cui si trova partini i codanni, dove il servizio di raccolta dei rifiuti ha funzionato a singhiozzo. Una ventina gli stop di diversi giorni soltanto negli ultimi tre anni e addirittura si è del tutto abbandonato il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Oggi in città la quota di differenziato è scesa sotto la soglia del 3% quando invece all'epoca del porta a porta nel solo centro storico si era arrivati a raggiungere il 9%. Il capitolato d'appalto, evidenzia il Presidente del Consiglio, prevede rigidi parametri che la ditta privata che si aggiudicherà l'appalto dovrà seguire. Questa sarà certamente assoluta garanzia di qualità del servizio perché in caso di mancata attuazione sono previste delle pesanti penali. Decisiva accelerazione nei lavori di riqualificazione di Piazza Regina a Mazzara del Vallo. Oggi è iniziata la demolizione del vecchio chiosco gelati che si trasferisce nella nuova struttura ubicata a pochi metri di distanza nell'ambito della stessa piazza dopo la dismissione del distributore di carburante e la demolizione dell'immobile adiacente dove prima vi era l'edicola. I lavori in fase di ultimazione hanno inoltre previsto l'innalzamento dalla piazza a livello del marciapiede, la realizzazione di una pavimentazione con basolato siciliano e la realizzazione di due rampe di accesso con portatori di handicap. L'importo complessivo dell'appalto è di oltre 170 mila euro. Oltre 500 nuovi medici, infermieri e operatori sanitari in arrivo per gli ospedali del Trapanese, la conferenza dei sindaci dà il via libera all'atto di indirizzo aziendale dell'ASP e dalla nuova pianta organica 43, le assunzioni previste ad Alcamo. 513 nuovi posti di questi 153 saranno medici, 136 infermieri di cui 33 infermieri pediatrici, il resto operatori sociosanitari e ausiliari. E quanto prevede l'atto di indirizzo aziendale e le nuove dotazioni organiche predisposti dall'ASP approvati ieri all'unanimità dalla conferenza dei sindaci della provincia di Trapani. Ad Alcamo in particolare sono previste 43 assunzioni, 136 all'ospedale di Trapani, 39 a Pantelleria, 139 a Marsala, 13 a Salemi, 92 a Mazzara del Vallo e 51 a Castelvetrano. All'incontro erano presenti i primi cittadini di Trapani, Vito Damiano che la presiede, Di Marsala, Alberto Di Girolamo, di Castelvetrano, Felice Errante, l'assessore Vito Bilardello per Mazzara del Vallo, oltre ad una rappresentante del comune di Alcamo. Per l'ASP erano presenti il direttore generale Fabrizio De Nicola, il direttore sanitario Antonio Siracusa, quello amministrativo Walter Messina e il direttore del distretto di Trapani e Svaldo Cono Hernandez. Abbiamo tenuto conto per la nuova dotazione organica, spiegato De Nicola, sia dell'effettivo bisogno delle risorse umane necessarie a garantire i LEA i livelli essenziali di assistenza con adeguati standard di efficacia nell'ambito della rideterminazione della rete approvata da Regione e Ministero che della compatibilità economica e finanziaria nel rispetto del tetto di spesa rideterminato dall'assessorato regionale alla salute in 191 milioni 463 mila euro. Per questo, dice De Nicola, ringrazio l'assessore Baldogucciardi che ha incrementato questo tetto di alcuni milioni di euro. Sono stati istituiti nuovi reparti, ha aggiunto il direttore generale, mentre altri da strutture semplici diventano strutture complesse. Sono stati messi in sicurezza tutti i punti nascita della provincia di cui non è prevista alcuna chiusura, nemmeno pantelleria che è stato autorizzato in deroga, i vi comprese le guardie attive H24, sia anestesiologica che pediatrica. Programmato inoltre un incremento di personale nel pronto soccorso che saranno tutti dotati di OBI, l'osservazione breve intensiva e il numero degli anestesisti, cosicché le sale ospedaliere in tutti i nosocomi potranno operare H12. Al Sant'Antonio Abate di Trapani viene creato inoltre un polo cardiologico, emodinamico e chirurgo vascolare. Un altro polo sarà quello oncologico, con le unità operative complesse di oncologia, anatomia patologica, radiodiagnostica e l'unità operativa semplice di screening mammografico, mentre è in progetto la radioterapia. All'ospedale di Marsala viene aggiunta alla chirurgia generale la chirurgia laparoscopica. L'urologia diverrà struttura complessa di indirizzo oncologico, viene trasferito da Trapani il reparto malattie infettive e viene previsto un ambulatorio di oncologia. A Mazzara del Vallo, dove è prevista la radioterapia, viene aggiunta una struttura semplice di chirurgia oncologica, mentre l'oncologia di Castelvetrano, per la particolare qualificazione ricevuta, viene elevata a struttura dipartimentale. Entro il 30 novembre, a concluso De Nicola, atto di indirizzo e pianta organica dovranno essere approvati dalla Regione, in maniera così da poter bandire mobilità e concorsi per coprire i posti vacanti con nuovo personale. Si terrà domani, giovedì 24 settembre, alle 20, al Caffè Nannini ad Alcamo, una delle tappe dell'Incontriamo Cetur, promosso dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle. Saranno presenti Valentina Palmeri, Giorgio Ciaccio, Sergio Tranchedi e Salvatore Siragusa, oltre ad un'esposizione dell'attività parlamentare, fanno sapere i grillini, verranno affrontati numerosi temi locali ed esperienze di amministrazione a 5 Stelle, come il Comune di Bagheria, l'invito è aperto a tutta la cittadinanza. E con questo è davvero tutto, l'informazione di Alpa1 si chiude qui, grazie come sempre per l'ascolto, adesso la sigla di chiusura del nostro notiziario e subito dopo la rubrica Clic curata dal professore Vincenzo Lucchese. A risentirci.